Secondo fine settimana di testa Vicenza incontrà pescherie vecchie dell'esperimento della Movida a numero chiuso. Da venerdì sera dopo le 18 sono ricomparse le transegne a limitare gli accessi da Piazzetta Palladio e Piazza delle Erbe, gli steward a regolare gli ingressi in base alla capienza dei locali e le pattuglie delle forze dell'ordine per sedare eventuali disordini. Nel prossimo comitato per l'ordine pubblico, prefetto e amministrazione comunale tireranno le somme di questi due weekend di sperimentazione, ma già residenti ed esercenti dell'area interessata hanno un quadro abbastanza chiaro. Noi ci aspettiamo che questa sera appunto sia una giornata tranquilla, diciamo una terzata tranquilla, però speriamo che questa non sia la soluzione definitiva perché comunque anche noi ma soprattutto i bar e i ristoranti perdono un sacco di clientele in questo modo qua perché comunque la piazza viene praticamente, si allontanano tutti dalla piazza e quindi bisogna trovare una soluzione alternativa. Visto che ci sono state delle risse alla zona IM lì al Molo, trovo che la soluzione non sia intelligente. Sicuramente ha aiutato, però noi che abitiamo qua ormai siamo abituati al casino, però vedo che il problema si è spostato da un'altra parte quindi mi sembra inutile. Comunque c'è affollamento, anche se il numero è contenuto, ma comunque chiaramente in centro ci sono più contatti e quindi per me andrebbe mantenuto. È un po' più calmo, si sta bene. Cosa mi aspetta? Non lo so, io tra poco cambio casa. Grazie. Grazie.